Mi chiamo Mareldiana, l'anno è 70, i maggiori sono passati in una sartoria, vengo richiesto da come consigliere, collaboratore, quale di me su tutte le giacche. Questa quadra si chiama messa in tela ed è la fase più importante di tutto il processo produttivo. La messa in tela è importante, io ritengo la messa in tela come le fondamenti di un palazzo, se la messa in tela è costruita male la giacca casca, se i fondamenti non sono fatti adeguati il palazzo cade. Per Combatagent doveva dare anche la sensazione di essere un prodotto sì sartoriale ma con dei contenuti ben puliti e precisi. Abbiamo messo una tela in grina animale naturale lavorata nella parte superiore per dare più la possibilità di fare più bombè al petto e questa è la parte più interessante della giacca di Combatagent. Questa fase viene fatta con una macchina a punto a saltello. La regolazione del punto la decido io. Anche il modo di tenere la giacca, questa è una fase cruciale. Una volta finito questo, cosa importantissima è lo spiro intermedio del davanti. In generale io voglio che la giacca si stiri molto perché vuol dire che tu la riesci a modellare meglio. E' un'altra cosa molto importante non forzare mai la fibra del tessuto. La fibra che vive prende l'umidità e si riconfia che tutto ciò che viene forzato dopo c'è un ritorno e la giacca non veste. Questo fa sì che possa dare un grande risultato al prodotto che tu fai. Se tu sai fare l'interno, perché non basta saper fare la giacca, devi saper fare anche l'interno. E' fondamentale.